Chiediamo alla Fondazione Alleanza Nazionale di dissipare ogni ombra in merito all'ipotesi della chiusura del secolo d'Italia, ma soprattutto chiediamo di fare tutto quanto è nella disponibilità economica e nel suo potere per rilanciarlo, rendere più efficace la presenza in rete, riconquistando l'autorevolezza che deriva dalla distribuzione in edicola con un adeguato sforzo per la diffusione. E' questo l'appello che Fratelli d'Italia rivolge alla fondazione dell'ex partito, editore del giornale, in seguito alle voci sempre più insistenti di una possibile messa in liquidazione del quotidiano. Il partito guidato da Giorgia Meloni ritiene questa una scelta particolarmente dolorosa sotto il profilo politico. Da 60 anni la storia della testata coincide con quella della destra italiana. Una chiusura, un forte ridimensionamento sarebbero assolutamente censurabili anche alla luce degli obiettivi della fondazione. Abbiamo presentato oggi un appello con le prime 200 firme di autorevoli esponenti del mondo della politica, della cultura, dell'informazione assolutamente trasversali per la salvaguardia del secolo d'Italia. Il secolo d'Italia è stata una delle testate storiche degli ultimi 60 anni di storia repubblicana. Ha raccontato la destra all'Italia e ha raccontato l'Italia alla destra, ma è stato anche molto di più. Oggi noi riteniamo che la fondazione Alleanza Nazionale, che ne è proprietaria, debba non rischiare di chiuderlo, ma rilanciarlo. E lo facciamo con un appello assolutamente bipartisan sul quale continuiamo a raccogliere le firme. Un appello firmato da esponenti del mondo della politica provenienti da ogni schieramento, dal PDL al PD, dalla Lega SEL. Compaiono i nomi di Mara Carfagna, Giuseppe Fioroni, Fabrizio Cicchitto, Rocco Buttiglione e Roberto Molassut.